Io credo che ci si possa riuscire, che si possa cambiare. Questo articolo 31 è uno strano fenomeno. Io sono nato per rappare. Dalle stelle alle stelle, dalle stelle alle stelle, per arrivare fino in cima devi avere le palle, di seguire la tua idea e di non farti deviare, dalla linea di tendenza che impedisce di pensare convinzione. Presa di posizione, imporre i derivati di una tua decisione, rifiutare in assoluto le categorizzazioni, per dedurre una scelta dalle tue decisioni, rispiegare i tuoi pensieri fuori da ogni canale, non avere un'etichetta, non essere ma uguale la cultura, è un potere da acquisire, che ti può dare i mezzi per farti capire che l'ignoranza è più civile. Sta chiudendoci la mente, sta spegnendoci la rabbia e fa sacere le coscienze. Se capisci cosa dico, se ti stai per incazzare, forse allora tu sei un altro. Nato per rappare La musica è un linguaggio, io vi parlo nella musica, rimando i miei discorsi nella sua struttura metrica e non sono incattivito da un DJ con i coglioni, gira un basso che ti fissa i miei concetti nei neuroni. Sono un criminale lirico, un terrorista lessico di un movimento tacico, però del tutto libero. Non uso pistole, non uso cannoni, ma la potenza pura che dentro dei polmoni camminare, camminare mi dà tempo di pensare, mi offre globalmente ogni soggetto da servare. Avanzare non vuol dire devastare, ma spezzare quelli che mi vogliono fermare. So distinguere chi vale tra una folla di falliti, so parlare con la gente o mare di amici. Comprendono i miei dogmi, il mio modo di insegnare, perché sono i miei fratelli, sanno che io sono nato per rappare, nato per rappare, nato per rappare, nato per rappare. Io non sono costruito, sono vero, pensi di potermi fottere, davvero? Non mi piego, non mi spezzo, questa volta mi fa male, ma non ingabbio la mia anima di libero animale. Io non cambio la mia musica per vendere più dischi come han fatto certi tizi. Non so se mi capisce aver costanza nella vita, la mia decisione, credere in me stesso, la mia religione. Propongo innovazioni, dialettali, predico violenze, lessicali, l'effigie commerciale data al rap. Non mi tocca, è un rivoltante metodo per chiuderci la bocca, perché vogliono alienarci. Chiuderci nel ghetto, nessuno l'ha detto, no, ma io lo rappo e non accetto questo schifo di immaginazione. La parola è la mia arma di ribellione, la vita a mio parere è un frutto da divorare. È più buono il sapore, se lo sai coltivare. E ricordati che se sei vivo, è già stato definito uno specifico motivo, perché tutti abbiamo un muro da rompere. Ogni uomo ha una missione da compiere, che è nato per subire, che è nato per lottare. Chi come me, J-AX è nato per rappare. Io sto, io sto, io sto, io sto, io sto. Nato per rappare. Nato per rappare. Nato per rappare. DJ Jed. Nato per rappare. 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 Grazie.